Cari amici di Lestare Animazione, siamo di nuovo online con le nostre feste virtuali. In particolar modo, oggi sono lieto di presentarti la versione 3.0, in cui abbiamo inserito il meglio delle feste che facevamo in passato, aggiungendo nuovi giochi, servizi e attività che è possibile scegliere per rendere il compleanno dei vostri figli indimenticabile, nonostante il periodo che stiamo passando. Se vuoi maggiori informazioni, clicca il link che trovi qui sopra, qui sotto, di lato, da qualche parte e scopri il programma completo che abbiamo preparato per te.